Blitz all'alba di oggi nel Calatino da parte dei carabinieri, 16 persone arrestate, 6 sono finite in carcere, 10 a domiciliari. Ritenute responsabili di concorso in detenzione ai fini di spaccio di sostanze superfacenti e di una serie di furti aggravati ai danni di attività commerciali e di abitazioni. Le indagini coordinate dalla procura di Calzagirone hanno consentito di ricostruire l'organigramma del sodalizio malavitoso e di individuarne i capi e i gregari. Gli investigatori hanno documentato l'ingente volume di affari illegali del gruppo, il sistema di gestione dell'attività di spaccio di cocaina e di marihuana. I 16 arrestati sono di Gran Michele, Calzagirone, Vizzini e Milano. Il provvedimento scaturisce dall'indagine Dalton condotta dai carabinieri Calatini tra il 2015 ed il 2016, periodo in cui nella città della ceramica si era registrata una forte recrudescenza di crimini particolarmente efferati. È stato possibile individuare i responsabili di un tentato furto ad un bar di Calzagirone e risalire agli autori di un furto in una casa e di un tentato furto di una colonnina a self-service di un distributore di carburante di Gran Michele. Diverse sono invece le ipotesi contestate di detenzione e spaccio di marihuana, hashish e cocaina nei comuni di Gran Michele, Vizzini, Palagonia e Calzagirone, attraverso le quali è stato possibile definire la struttura e i ruoli dei componenti. Quattro uomini sono stati fermati perché ritenuti responsabili di ricettazione e rapina ai danni di un anziano a Licodia e Obea, uno del furto di materiale edile all'interno di una abitazione di Gran Michele, cinque perché pianificavano un omicidio sempre a Gran Michele per frizioni legate alla gestione delle attività di spaccio, e tre per una rapina ai danni di una coppia di anziani coniugi di Gran Michele. Grazie. Grazie.